Bene, benvenuti in un nuovo video. Possiamo ormai ufficialmente dire che gli ads, gli annunci pubblicitari sui social non funzionano assolutamente più come una volta, è innegabile. Fino a due o tre anni fa il modo in cui facevamo pubblicità online, su Instagram, su Facebook, su Google, su YouTube funzionava in un certo modo. Oggi la saturazione degli annunci pubblicitari unita quindi al costo crescente di click e di conversione sta riducendo l'efficacia degli annunci pubblicitari sui social. Quindi come sta cambiando questo mondo? Lo vediamo in questo video e come potete vedere uno dei grandi protagonisti di questo cambiamento è senza dubbio TikTok. Piace o non piace? Io stesso non credevo e non credo tanto in TikTok, soprattutto parte dei creators come creator vero e proprio perché comunque fidelizzare un audience su TikTok con un pubblico così distratto come su TikTok non è semplice. Però io qua sto parlando di pubblicità advertising, quindi se abbiamo un prodotto, se abbiamo un brand è innegabile che ora l'attenzione si sta spostando su TikTok. Per quale motivo? Analizziamo un po' di numeri e poi torniamo su questa schermata per una cosa importante. Allora, 2021, revenue totali 4.6 miliardi di dollari. Cioè stiamo parlando di revenue che si duplicano e triplicano praticamente di anno in anno. Guardate qua. Torniamo su questa schermata. Per quale motivo TikTok sta cambiando il modo di interagire sui social con i contenuti e con la pubblicità? Per questo motivo, don't make ads, make TikTok videos. Il modo in cui creiamo contenuti è cambiato anche grazie a TikTok o per colpa di TikTok, così come vogliamo metterla e l'utente medio interagisce con i contenuti solo se sono fatti in un certo modo. Su TikTok i contenuti sono fatti in un modo ben preciso, come potete vedere anche delle immagini che passano qua. Sono contenuti grezzi, poco editati, non professionali, i cosiddetti user generated content. Ho fatto proprio un video interamente su questo. Oggi questi sono i contenuti che funzionano meglio, funzionano di più e le aziende stanno sfruttando per incrementare conversioni, vendite e attenzione. È innegabile che questo funziona. Perché? Perché oggi le persone sono abituate a schippare gli ads, gli annunci pubblicitari, ma invece interagiscono più volentieri con contenuti fatti da persone normali che consigliano un prodotto e vogliono ovviamente farlo conoscere al proprio pubblico. Ci colleghiamo al mondo dell'influencer marketing in parte perché è quello che ha sempre funzionato negli ultimi anni con l'influencer marketing, cioè persone che noi seguiamo che promuovono prodotti di cui noi tra virgolette ci fidiamo. Oggi neanche quello più basta perché siamo già abituati a vedere influencer che promuovono una marea di roba, fanno una marchetta dietro l'altra, però se un contenuto è fatto bene, intrattiene, inspira e ci piace, non importa quanti follower abbiamo, ma conta il tipo di contenuto. Per questo su TikTok il contenuto è cruciale ed è importante al mille per mille. Per quanto riguarda i contenuti, come dicevo, TikTok ha soltanto e una sola posizione, feed, che è la for you page dove noi scopriamo e esploriamo i contenuti e se noi andiamo a vedere i top performing ads anche ad esempio negli Stati Uniti, come vedete sono tutti annunci pubblicitari creati dai contenuti e sponsorizzati dall'azienda. Questo è il punto chiave, non occorre avere milioni di follower e prendere influencer che hanno milioni di follower perché noi cosa faremo? Noi prenderemo contenuti o faremo creare contenuti a influencer e poi sponsorizzeremo i contenuti. Questi sono i top ads negli Stati Uniti per conversions che vuol dire che stanno convertendo perché qua ci mettono migliaia, sono milioni di dollari dietro grosse aziende che come potete vedere non ti resta neanche che sono grosse aziende perché i contenuti vedete sono fatti direttamente col telefono senza neanche editarli, senza niente, girati probabilmente in dieci minuti. Ma questi sono i contenuti che convertono oggi, tutorial, how to, recensioni, con persone reali che fanno vedere come si trovano col prodotto. Proprio su questo, su questo specifico video, anche più nel dettaglio, è la prima lezione del corso TikTok Ads Academy che trovate dentro i Commerce Hero in questo momento. Quindi se volete unirvi qui sotto trovate il link per entrare al corso, c'è ancora un'offerta valida e attiva per le prossime ore. Dentro i Commerce Hero trovate anche un corso su TikTok Ads, ho già girato quattro video, oggi giro il quinto e entrando oggi tutti i futuri contenuti di TikTok Ads Academy saranno inclusi. Poi un giorno toglierò TikTok Ads Academy dal corso, lo venderò separatamente ma ovviamente rimarrà nel corso per chi l'ha già comprato quindi approfittatene ora perché farò vedere come creare campagne pubblicitarie da zero. Io stesso sto spostando gran parte del budget in TikTok Ads e sto notando un costo per click come non lo vedevo dai tempi di Facebook e Instagram tipo di 3-4 anni fa sto parlando. Quindi sicuramente questo non durerà per sempre, anche su TikTok si saturerà in fretta perché c'è solo un unico formato di posizionamento quindi bisogna approfittarne oggi e il primo possibile. Quindi come dicevo oggi questo è il tipo di contenuto che funziona, c'è poco da fare. Più è editato il contenuto meno funziona, più c'è l'azienda di mezzo meno funziona, più viene cercato di far vedere il prodotto meno funziona. C'è la persona prima, la soluzione poi e il prodotto alla fine. C'è un classico script che funziona perfettamente, tra l'altro questo è una cosa interessante che vi consiglio di dare un'occhiata a vedere come ispirazione. Ripeto, quindi creare contenuti è il problema tra virgolette oggi ma non dovete neanche voi essere le persone a creare e che creano i contenuti. Per quale motivo? Perché su TikTok voi potete assumere persone che creano per voi i contenuti. Quindi il vostro lavoro è creare il brand o vendere il prodotto. Creare i contenuti, la parte creativa spetta all'influencer. Potete, ripeto, assumere un influencer per creare per voi i contenuti. Creando per voi i contenuti voi dovete solo occuparvi della parte di advertising. cioè una volta raggiunto il reach organico dei follower della persona che avete contattato e ripeto, se contattate un micro influencer che ha 2-3 mila follower a voi non interessa niente anche se porta pochissime vendite, poi il vostro lavoro è fare tutta la parte pubblicitaria e di advertising che arriva dopo. Ripeto, per questo vi posso aiutare io che l'ho già fatto e ve lo faccio vedere proprio nel corso. Tra l'altro ho fatto un video anche qua su YouTube gratis se volete vederlo su come creare campagne pubblicitarie su TikTok. Magari ve lo linko qui sopra e dateci un'occhiata. C'è una struttura che funziona bene. Come dicevo prima, su TikTok la creatività gioca un ruolo cruciale e fondamentale. Praticamente è il 90%. È quasi l'opposto rispetto a Facebook e Instagram. Facebook e Instagram era più analitico, tecnico e quasi scientifico, no? Trovare le campagne giuste. Su TikTok gioca tanto la viralità in parte del contenuto, la creatività soprattutto e l'angolo che andiamo a traghettizzare. Poi il pubblico è relativo in parte, poi ovviamente anche lì se andiamo nel dettaglio a fare campagne più specifiche ci sono delle opzioni di targeting su TikTok che sono pazzesche, che non si vedono neanche su Facebook ora. Questo comunque è un'altra cosa che andrò anche a implementare nel corso nello specifico su come creare ads con target assolutamente specifici e ad hashtag anche e quali funzionano meglio. Quindi sicuramente questi, ripeto, sono i contenuti che funzionano. Se volete iniziare oggi dovete sicuramente puntare su TikTok, cioè c'è poco da fare. Oggi questa è la piattaforma da utilizzare, ve lo dico negli Stati Uniti, questa è la strada migliore da cui partire e per iniziare a fare pubblicità e vendere online. Il vostro budget, che è un'altra cosa importante da considerare, è relativo. Si può iniziare con un budget più inferiore rispetto ad altre piattaforme. Considerate che però su TikTok solitamente bisogna iniziare con un budget più alto perché è consigliabile, soprattutto con un obiettivo conversione, avere un CPA, cioè cost per acquisition, come obiettivo 20 volte superiore come budget pubblicitario. Un esempio, se il vostro obiettivo, il vostro CPA è 10 dollari dovreste iniziare con 200 dollari di budget, però si può iniziare anche con di meno, poi in questo ne parlerò anche nel dettaglio. L'interfaccia stessa di TikTok è stata fatta, l'interfaccia di TikTok Ads, per facilitare e aiutare gli advertiser che arrivano da piattaforme come Facebook, l'Ads Manager, il Business Manager. Infatti come vedete è molto intuitiva, molto simile tra l'altro a quella di Facebook ed è stato fatto per questo motivo, così chi arriva, gli advertiser, sanno già bene cosa aspettarsi e come usarla. Questa tra l'altro è stata una delle poche cose che TikTok ha copiato da Facebook e Facebook non ha copiato da loro, al contrario come fanno sempre, visto che anche i Reels sono stati copiati da TikTok. Parliamo appunto dei Reels. I Reels non funzionano allo stesso modo di TikTok. L'algoritmo è diverso, i contenuti su Reels sono praticamente riproposti in parte da TikTok e quello che stiamo vedendo è che quello che avevano fatto con successo con Snapchat, creando le storie e copiandole, creando anche una versione migliore delle storie che tutti hanno iniziato a utilizzare, in Reels non è esattamente la stessa cosa, sono contenuti diversi e solitamente chi nasce su TikTok non crea gli stessi contenuti su Reels, o meglio ripostano alcuni contenuti ma è per loro una piattaforma di repost secondaria, il contenuto originale è creato per TikTok oggi, non per Reels. Questo è il game changer, la cosa fondamentale, perché fa capire dove sarà il futuro della creazione dei contenuti e dove stanno investendo i content creator e quando i content creator investono in una piattaforma arrivano anche i brand e arrivano anche gli advertiser. Quindi questo è il cambiamento a cui stiamo assistendo in questo momento dal punto di vista pubblicitario e marketing. Bene, questo è quanto la video di oggi, qui sotto al solito trovate il link, mi raccomando, queste sono cose importanti nel senso che TikTok Ads è sicuramente una cosa che dovete implementare oggi come strategia di advertising per il vostro brand, per il vostro e-commerce, per se fate affiliate marketing, se vedete prodotti fisici, digitali, qualsiasi cosa vendiate online. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da lei e a presto.